Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Dopo la fase all'insegna dell'alta pressione del bel tempo che interesserà tutta Italia nel corso del fine settimana, sul finire di lunedì il tempo tenderà gradualmente a peggiorare, anche se un'ipotesi è ancora da confermare vista anche la distanza temporale. Ma stando ai dati odierli una perturbazione atlantica in discesa da nord dovrebbe raggiungere le nostre regioni settentrionali sul finire di lunedì per poi dar luogo tra martedì e mercoledì a un peggioramento in marcia dal centro nord verso le regioni meridionali associato anche a un moderato abbassamento delle temperature. Come dicevo poc'anzi è un'ipotesi che necessita di ulteriori conferme, pertanto vi invito ad aggiornarvi su trebimeteo.com